Si è aperto ieri in Messico il G20 delle finanze, un appuntamento importante in questo periodo di crisi economica, ma mai come quest'anno così sotto tono, visto che mancano diversi esponenti di spicco, a cominciare da colui che normalmente rappresenta gli USA in queste riunioni, il segretario di Stato al tesoro Timothy Gettner. Ma assenti sono anche i ministri delle finanze di Francia, Pierre Moscovici e Brasile Guido Montega e il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Tutti gli occhi sono puntati con preoccupazione alle elezioni americane. Che conseguenza avranno sull'attivazione del fiscal cliff, che giunge in un momento in cui già non si può sperare molto dall'economia mondiale? Sembrano tutti d'accordo al G20 nel ritenere che la crescita globale resterà modesta. È stato quindi unanime il coro che si è allevato da città del Messico verso l'America. Il nuovo presidente USA faccia di tutto per evitare che scattino i tagli fiscali automatici e l'innalzamento della pressione fiscale. A preoccupare di meno la situazione europea, soprattutto dopo l'annuncio da parte della BCE del piano di acquisto bondi illimitato, a beneficio dei paesi in difficoltà. Al momento l'unica realtà guardata con una certa preoccupazione è quella del debito greco. Arrivano le liste elettorali pulite. Non sarà possibile per chi ha subito una condanna definitiva per una pena di almeno due anni essere candidati. Questo è il succo del decreto legislativo sulle nuove norme sulla incandidabilità dei condannati. Un testo quasi pronto, preannunciato ieri al Quirinale dal ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, su cui mancano le ultime limature, attese fra oggi e domani da parte dei ministri interessati, colleghi Severino e Patroni Griffi. Dopo allora potrà essere trasmesso alla presidenza del Consiglio, a cui spetta la decisione su quando sottoporlo all'ok politico definitivo in Consiglio dei Ministri. Trattandosi di decreto legislativo, il Parlamento avrà 60 giorni per esprimere il previsto parere da parte delle commissioni competenti in materia. Dopodiché, in forza della delega ricevuta, il provvedimento, liste pulite, sarà in vigore, giusto in tempo per applicarlo per le elezioni regionali in Lombardia, Lazio e Molise, oltre che ovviamente alle elezioni politiche del 2013. Dopo la visita a sorpresa in Afghanistan, Mario Monti oggi è sbarcato in Laos in occasione del Vertice Europa-Asia. L'obiettivo è quello di convincere il mondo asiatico che l'Europa è un interlocutore attendibile, di trovare in Oriente un terreno fertile per investire e svilupparsi economicamente. Al Vertice sono presenti una cinquantina di capi di Stato e di governo, tra gli altri il presidente francese François Hollande, il presidente dell'Unione Europea, Barron Pui, e il numero uno della Commissione Europea, Barroso. Vogliamo discutere delle opportunità di investimento e di commercio, ma anche delle sfide della stabilità e della sicurezza nella regione, ha commentato Barroso. Il presidente francese Hollande ha poi spiegato che l'obiettivo del suo viaggio, il primo in Asia dal governo della sua elezione, è convincere, attraverso il dialogo, che l'Europa è ancora una potenza economica. A convincere dell'attendibilità dell'Italia, invece, il presidente del Consiglio, che ha spiegato che le riforme avviate e una finanza pubblica più sana stanno dando i primi frutti e ora l'Italia è un paese più attraente per gli investitori stranieri, come dimostrano i dati di diversi organismi internazionali. Monti tornerà in Italia mercoledì prossimo. Nel 2012 il prodotto interno lordo italiano calerà del 2,3%, mentre nel 2013 scenderà dello 0,5%, nonostante l'attenuazione degli impulsi sfavorevoli e un moderato recupero dell'attività economica nel secondo semestre. È quanto prevede l'Istat nelle prospettive per l'economia italiana del 2012-2013. L'Istituto di ricerca fotografa la crescente situazione di disagio finanziario dichiarata dalle famiglie che porterebbe in un primo tempo ad un proseguimento nell'utilizzo del risparmio, cui potrebbe eseguire un'evoluzione negativa dei modelli di consumo. Questi dati si aggiungono a quelli già allarmanti della disoccupazione che ha raggiunto il suo picco massimo in negativo. Sempre secondo l'Istat, nel 2013 il tasso di disoccupazione continuerebbe a salire fino all'11,4% a causa del contrarsi dell'occupazione, fenomeno cui si dovrebbe accompagnare un aumento dell'incidenza della disoccupazione di lunga durata. Forte battuta d'arresto anche per i consumi, la spesa privata registrerà quest'anno una contrazione del 3,2%. Nel 2013 sarà ancora in calo, ma solo dello 0,7% e meno, a seguito delle persistenti difficoltà sul mercato del lavoro e della debolezza dei redditi nominali. Meno di 48 ore per sapere chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Archiviata l'emergenza dell'uragano Sandy, i due contendenti si danno da fare per visitare gli stati definiti in bilico e convincere il maggior numero di elettori. I sondaggi infatti danno Romney e Obama in un continuo testa a testa. La partita insomma si giocherà su una manciata di voti. E intanto una buona notizia è già arrivata. Sono infatti i milioni gli elettori che hanno scelto di esprimersi con il voto anticipato. Secondo alcune stime, alla fine potrebbero essere il 40% dei votanti. Numeri da capogiro, i più alti mai registrati in una corsa per la Casa Bianca. Da settimane i democratici spingono gli elettori a votare in forma anticipata e il risultato raggiunto pare dare loro ragione. Lo stesso Barack Obama ha votato nel mese di ottobre. Ora è il rush finale in attesa del concerto di chiusura in sostegno del presidente uscente. Ospiti d'onore Bruce Priestin e la cantante pop Katy Perry.